oggi guardiamo e facciamo lo swatch di questa nuova palette da Too Faced ed è Eppli in Louvre che è appena arrivata ed è fantastica, fantastica perché è nuovissima oltretutto eccole qui i colori ma la facciamo vedere da qui guardate che bella oltretutto è latta che mi piacciono e andiamo a vederla dentro è davvero bella ma adesso lo sbocciamo comunque vi ricordo sempre che ho i codici sconto per voi ed abbiamo look fantastic dove è disponibile 10 euro di sconto sul primo ordine oppure novità abbiamo anche cult beauty in questo caso 5 euro di sconto sul primo ordine ma ora andiamo a vedere il colore di questa palette facciamo così così non fa il flesso che dite e partiamo come sempre dall'inizio e andiamo avanti quindi facciamo tutta la prima fila poi la seconda e poi la terza vediamo un po due tre facciamo così questo è bellissimo si chiama caramell apple e poi abbiamo due bello molto molto bello se non mi sporcavo magari anche e ma apple in mai e vediamo un po carino tutto a tema ovviamente mele molto carino ok adesso andiamo con la seconda fila che divido dei bei shimmer interessanti 23 a potevo fare 33 ma ormai ho preso questo via seconda fila e quindi dove li facciamo qui tre tre quattro a me questi colori piacciono molto mi stanno davvero piacendo molto ok finiamo con l'ultima fila anche perché abbiamo iniziato a fare un po di confusione ed a questo punto facciamola allora questo 23 questa volta non mi sbaglio vediamo ma sì 23 e finiamo con gli ultimi tre vedete che sto mi sto pulendo ogni volta perché non voglio allora intanto prima cosa che vi posso dire è che a rispetto delle altre palette di to face passate questa è molto meno polverosa ed è una cosa già per sé interessante poi belli alcuni colori sono bellissimi questo per me è stupendo c'è è lateralmente stupendo ma anche tanti altri questi sono i colori e questo è la swatch alla fine di verde è solo questo questo qui è davvero un piccolo luminoso che è questo qui molto bello molto bello molto bello molto bello da prendere con gli sconti o con l'effetto comunque sì complimenti tu face perché stai davvero migliorando e rispetto alle prime palette questa è molto molto meno polverosa e assolutamente mi piace assoluta voi cosa ne pensate ciao 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 ciao